Cultura, sport, cura e bellezza del centro storico, su queste aree tematiche le più votate dai cittadini dovranno essere sviluppati i progetti presentati per il bilancio partecipativo 2021. Ciascuna proposta dovrà prevedere un costo massimo di 8.000 euro. L'amministrazione si riserva di definire successivamente, si legge nell'avviso, la destinazione di eventuali importi che dovessero rendersi disponibili nel caso in cui la somma dei costi dei progetti preferiti e ammessi al finanziamento risulti inferiori agli euro 40.000. Le proposte progettuali potranno essere presentate da tutti i cittadini residenti a Caltanissetta dai 16 anni in su, in forma singola o associata, dal 12 gennaio fino alle ore 12 del 10 febbraio 2022. La consegna potrà essere effettuata direttamente dal proponente presso l'ufficio protocollo del Comune, tramite raccomandata corricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di Caltanissetta, Corso Umberto I numero 132 9300 Caltanissetta, direzione IV Ufficio Ragioneria, con indicazione bilancio partecipativo 2021, progetto area tematica, indicando l'area tematica del progetto. Oppure, infine, tramite PEC, all'indirizzo protocollo chiocciolapec.comune.caltanissetta.it. Bisognerà specificare, oltre al nome e cognome del proponente, l'oggetto, quindi bilancio partecipativo 2021, progetto area tematica, indicando appunto quella scelta, indirizzarla alla direzione IV Ufficio Ragioneria, e poi titolo, finalità obiettivi, destinatari, scansione delle attività, cronoprogramma, descrizione delle attività che non dovranno comunque superare i 12 mesi e il dettaglio delle spese. Distinto per voci, previsto per ogni progetto. Una commissione valutativa analizzerà le proposte pervenute ed entro 20 giorni esprimerà il parere sulla fattibilità delle stesse. Saranno poi ancora una volta i cittadini ed esprimere le proprie preferenze in merito ai progetti ammissibili.